La disposizione è relativa. Vi chiedo scusa per non essere lì con voi, ma per motivi seri mi hanno costretto ad allontanarmi per due giorni. Ma il mio pensiero è lì con voi assieme a mio padre Peppe. Le lacrime dicono al nostro volto quando ripensiamo a te e iniziamo a ricordare. C'è stare la distezza, ma se ripensiamo al tuo sorriso e alle tue parole capiamo che non possiamo essere tristi. Non dobbiamo piangere, tu non l'avresti voluto. Sei tu che mi hai insegnato a vivere la vita sempre con il sorriso. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai esprigionato continuerà a sostenerci nel tuo ricordo, rallegrandola ai nostri giornali. Grazie di esserci stato e ti renderemo onore con la nostra vitalità e gioia di vivere. Ciao papà, ciao Peppe e se catture, tuo figlio Luigi. Inoltre, anche se non ce ne sia bisogno, in quanto la tua memoria rimarrà sempre viva in noi, organizzeremo in tuo onore un torneo annuale di calcetto con i ragazzi da te tanto amati e stimati. Adesso vi chiedo per favore di fare un minuto di silenzio per ricordare questo segatore. Grazie. 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 Grazie.